Io leggo chiaramente sui giornali e chiaramente auspico che la magistratura vada fino in fondo, non mi lascia assolutamente sorpreso, esattamente dal 1996-97, quindi quest'anno credo che faccio i 20 anni, da cui cominciai prima facendo il magistrato e oggi il sindaco a trovarmi, non perché ne abbia un godimento personale, il sistema contro e quindi la nostra azione contro il sistema. Prima l'ho fatto da magistrato, adesso da sindaco. Non mi meraviglia, ho sempre detto, loro si difendono con le calugne, con le diffamazioni, con i dossier, con le propagande certe volte mediatiche, con le operazioni politiche, con le deviazioni istituzionali e fanno molto male, fanno molto male perché sono molto pericolosi, perché tendono a distruggerti sempre sul piano morale, sul piano professionale, sul piano umano e sul piano istituzionale. Ma noi di fronte a questo opponiamo sempre la voglia del cambiamento, il non mollare e vuol dire che stiamo andando dalla parte giusta, perché se cercano in tutti i modi di fermarci, anche costruendo operazioni di dossieraggio, vuol dire che veramente abbiamo colto nel segno. Quando cacciammo Romeo dal Comune di Napoli sapevamo perfettamente che era un'azione non indolore. Poi vediamo, perché se fosse vero, quello si legge sui giornali, che addirittura un antagonista politico avrebbe ordinato una cosa di questo tipo, penso che ogni parola è superflua di fronte a questo. Evidentemente non riescono nemmeno a costruire una dialettica politica democratica, devono operare solamente con la cattiveria, con il dossieraggio, con l'inquinamento dei fatti. Io lo dissi dal primo giorno, alzai molto l'asticella dell'attenzione sulla vicenda Romeo. Il centro-sinistra di Bassolino e Iervolino avevano consegnato a un imprenditore l'intero patrimonio immobiliare della nostra città. Quel patrimonio immobiliare che oggi noi vogliamo consegnare alla città per dare un tetto a chi non ha tetto, quel patrimonio immobiliare con cui vogliamo costruire menze del popolo, con cui vogliamo dare l'infe e forza alle associazioni, a superare le rigidità formali di chi opera solo in una logica monetaristica e dice te lo do solo se mi dai il denaro. Ecco tutto questo è contro la politica dei global service alla Romeo, delle intercettazioni telefoniche con cui Romeo teneva sotto il braccio il 70% della giunta dell'epoca, dove arrivava a funzionari, a dirigenti, a politici, a magistrati, a poliziotti, a carabinieri. Non conosco benissimo quel sistema. È il sistema che passo 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 è arrivato ai vertici dello Stato e lo vediamo anche sulle inchieste che stanno riguardando Romeo, che riguardano il Ministro della Repubblica, che riguardano anche altre persone. Nulla di nuovo sotto al sole. Di fronte a questo mi auguro che la magistratura vada fino in fondo e non rimangono solo delle linee giornalistiche su cui possiamo esprimere un commento, ma non sappiamo fino in fondo fino a che punto è arrivata l'azione, perché l'azione sarebbe stata portata avanti da un dirigente del Comune. No, noi qua abbiamo dato la parola a un dirigente del Comune che lavora con noi e lavora così bene. Magari ce ne sono altri che mentre noi lottiamo per il cambiamento loro impugnano il coltello e mentre stai girato cercano di metterti un coltello dietro ai reni e dietro alla schiena. L'ho già visto in magistratura ed è stato più difficile difendersi perché non potevamo andare tra la gente. Oggi faccio il sinno di strada, vado tra la gente, queste cose le dico e dico alla gente di ribellarsi. Ribellarsi innanzitutto nei confronti della mafia che sta dentro alle istituzioni e dentro alla politica. Poi c'è la mafia di strada, c'è la mafia con la coppola e la Lovara, c'è la mafia delle stese che sono pericolosissime, ma senza la mafia della politica e delle istituzioni quella sarebbe stata già sconfitta. Quindi rivoluzione culturale da una parte, come stiamo vedendo anche oggi, una rivoluzione fondata sui valori ma anche sradicare la mafia e la corruzione dallo Stato e quindi Stato non è solo politica, è molto di più. Questa è la battaglia che io personalmente mi sono dato da uomo delle istituzioni, altrimenti non stare più nelle istituzioni. Ma quindi questa attività di tossielaggio lei lo riferisce a mafioso come metodo? Beh, vediamo i contorni, ma a mio avviso quando dall'interno delle istituzioni, ho fatto un ragione molto chiaro, si cerca di accoltellare una persona è sicuramente un sistema profondamente corrotto. In alcuni casi, qua non ho elementi, ma ci sono anche collegamenti di tipo mafioso. Per esempio nella mia vicenda di magistrato c'erano collegamenti con l'andrangheta, con la criminalità organizzata, con le massoni di Edeviate, con anche pezzi di vertici delle istituzioni. Qua mi sembra una cosa un po' più in salsa partenopea, Bassolino, Romeo, se questo è lo scenario, il PD è un imprenditore, la valente che in piena campagna elettorale andava a trovare Romeo a casa dopo tutto quello che era uscito, lo so che sono uscite tre righe sui giornali, però sono vicende che hanno una loro rilevata. È un sistema di grande corruttela, mettiamolo in questo, una grande macro corruzione che si agisce, lo spettro della corruzione che sarà distrutto dal fresco profumo di libertà sul quale noi ci lavoriamo ogni giorno. Io se non lo dico chiaramente, per me ha un senso rimanere all'interno delle istituzioni per sconfiggere corruzione e mafia, altrimenti io me ne vado dalle istituzioni, per me non ha senso stare nelle istituzioni, girarsi all'altra parte o far finta di non vedere. C'è ancora troppa corruzione, c'è ancora troppa questione morale, ci sono ancora troppe connivenze e ci sono ancora troppe persone che si vestono con gli abiti della legalità formale, ma perseguono interessi personali, privati, di corruttela e certe volte anche mafiosi.